Ed eccoci alla pagina sportiva. Ieri poveriggio l'Assemblea della Lega di Serie A ha approvato all'unanimità il taglio dei compensi a calciatori, allenatori e tesserati. Tra l'altro una intesa che compatta i club esclusa la Juventus. Si prevede dunque la riduzione di un terzo della retribuzione totale se non si riprenderà l'attività o di un sesto se nei prossimi mesi si completerà la stagione. Dura e furiosa la reazione dell'Associazione Calciatori che parla di proposta irricevibile e vergognosa. Intanto la Lega sta seguendo l'evoluzione dello scenario per capire anche la volontà di portare a termine la stagione e di tornare a giocare senza correre rischi. È tutto per questa edizione di Diario Mattina. Vi ricordo che le notizie ITG li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo come sempre alle 13.15 circa per la nostra straordinaria di metà giornata per fare il punto della situazione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.